Amici di Fulvia e le sue ricette benvenuti, oggi andiamo a preparare un secondo delizioso della cucina siciliana sto parlando dei calamari ripieni con un sughetto davvero buonissimo andiamo a vedere cosa ci occorre partiamo subito tagliando i pomodorini rossi semplicemente a metà in questo modo, perfetto, adesso prendiamo delle mandorle già pelate e le andiamo a tritare con pazienza tritiamoli grossolanamente, mi raccomando non fate un trito molto sottile adesso prendiamo un bel ciuffo di prezzemolo, lo laviamo, lo asciughiamo bene e lo tritiamo sottile, sottile, sottile perfetto, adesso non ci resta che prendere una bella padella, mettere l'olio extravergine d'oliva farlo scaldare un po', mettere uno spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare a fiamma dolcissima con un bel pezzettino di peperoncino fresco una volta rosolato, aggiungiamo delle olive nere denocciolate e una manciata di capperi dissalati e li facciamo rosolare tutti insieme adesso andiamo a togliere lo spicchio d'aglio in camicia e facciamo rosolare ancora per qualche minuto aggiungendo i nostri pomodorini e li facciamo appastire a fiamma dolce con un po' di acqua adesso andiamo anche a condire con un pizzico di sale un po' di prezzemolo e anche un po' di origano per dare profumo a questo sughetto delizioso che si è andato a formare prendiamo del pane, raffermo, lo ammolliamo nell'acqua, lo strizziamo bene mettiamo un pizzico di sale, dell'origano, del prezzemolo un giro generoso di olio extravergine d'oliva di quello buono del pecorino grattugiato le mandorle che abbiamo precedentemente tritate in maniera grossolana e andiamo a comporre la nostra farcia impastiamo molto bene, piano piano e facciamo un composto che non deve essere né troppo appiccicoso e nemmeno troppo asciutto adesso prendiamo i calamari dopo averli puliti bene, deviscerati e li andiamo a riempire con il nostro composto fino a tre quarti quindi non fateli molto pieni e soprattutto schiacciate bene per arrivare fino in fondo al limite nella parte della coda andate a fare una piccola incisione mettiamo adesso la testa e andiamo a sigillare il tutto con uno stuzzicadenti in questo modo in maniera tale che il nostro impasto non fuoriesca in cottura adesso non ci resta che andare a guardare il nostro sughetto guardate che bello ci mettiamo i calamari dentro in questo modo e iniziamo a cuocerli aggiungendo un po' di vino bianco secco mi raccomando deve essere secco e li facciamo cuocere dolcemente con ovviamente il coperchio a fiamma dolce li giriamo e li andiamo a insaporire col sughetto in maniera tale che entra anche un po' dentro il nostro ripieno e si va a insaporire il tutto guardate che sughetto delizioso che si è formato e sempre con coperchio li finiamo di cuocere ci vorranno circa 15-20 minuti in base anche alla grandezza del calamaro i calamari sono pronti li andiamo ad impiattare mettiamo i calamari andiamo a mettere anche il nostro sughetto come vedete è un piatto semplicissimo da preparare mi raccomando non schizzate il piatto come ho fatto io oppure dopo pulitelo bene mettete il sughetto sopra ci vorrà un bel po' di pane per inzuppare questo sughetto davvero molto corposo molto mediterraneo mettiamo ancora una manciata di prezzemolo e di origano sopra e il piatto è pronto per essere gustato caldo accompagnato come vi dicevo dal pane il sapore delle olive il sapore della sabidità delle olive e dei capperi il nostro ripieno guardate che è perfetto nella sua consistenza giusta consistenza lo andiamo a mangiare guardatelo qua adesso me lo vado a gustare insieme a voi ovviamente vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube consultate anche il mio blog fulvio e le sue ricette punto it non mi resta che salutarvi ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta ciao a tutti